Cari laureati, buongiorno e un caloroso benvenuto all'Università Europea di Roma alla cerimonia di conferimento dei diplomi di laurea magistrale. Sono Valerio Vinciarelli, dottore in Psicogiae e lavoro e dottorando di ricerca del 39esimo ciclo qui in Università Europea di Roma e anch'io come voi ho avuto l'opportunità di vivere questo bellissimo momento. Sono onorato di poter presentare un evento così significativo per la nostra Università e oggi finalmente ci troviamo qui riuniti nel nostro auditorium, Giovanni Paolo II, della nostra Università per celebrare il raggiungimento di un obiettivo importante, il conferimento del diploma di laurea magistrale. Dedichiamoci quindi un applauso. Rivolgiamo i nostri più cordiali saluti al nostro magnifico rettore, padre Pedro Barracon, all'ospite d'onore, la dottoressa Elisa Zambito Marsala, al prorettore il professor Alberto Gambino. Buongiorno. Ai coordinatori degli ambiti che oggi conferiranno i diplomi di laurea il professor Aniello Merone, coordinatore del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Il professor Giovanni Faresi, coordinatore del corso di laurea magistrale in economia e management dell'innovazione e la professoressa Anna Contardi, coordinatrice del corso di laurea magistrale in psicologia. Alla cappellania dell'università rappresentata dalla consacrata del Renium Christi, Cecilia Bayon. Buongiorno, buongiorno. Come ogni anno, la cerimonia di conferimento dei diplomi di laurea rappresenta un momento significativo per tutti i nostri laureati, ma anche per la stessa università. Il compimento di un percorso umano e professionale che vede realizzato l'impegno e la dedizione di numerose persone. Apriamo quindi a questo punto, se siamo tutti d'accordo, ufficialmente la cerimonia di conferimento dei diplomi di laurea magistrale dell'Università Europea di Roma, con l'esecuzione dell'Irno Nazionale della Repubblica Italiana. Grazie a tutti. 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 Benvenuti a questa cerimonia di conferimento dei diplomi per chi ha finito il ciclo magistrale di studi. Questa cerimonia un po' tipica dell'Università Europea di Roma, ovviamente altre università la fanno ma non tante. Abbiamo voluto sin dall'inizio della fondazione di avere questo momento celebrativo in gruppo di coloro che hanno finito un importante periodo di formazione universitaria e sono arrivati ad una nuova meta della loro vita. Le lauree magistrali che oggi chiudiamo con un ciclo vengono ad un periodo di acuta pandemia ma coprono due anni di relativa calma e di un progressivo diminuire del contagio. Le persone di questo periodo, tutti e noi, abbiamo vissuto un momento complicato, diremmo così, e per tanti versi anche duro. Però abbiamo imparato ad essere resilienti, come si dice, a combattere per i propri ideali in situazioni a volte avverse. Sempre che si chiude un ciclo è bene guardare il passato, guardare il presente e guardare l'avvenire. In questo modo questa cerimonia diventa memoria del passato, ma, usando una parola di Papa Francesco, profezia del avvenire. È bello fare memoria del passato, guardare questi due anni trascorso in questo ciclo di studi superiori dopo la triennale e già inseriti, molti di voi, in un'esperienza professionale. La memoria sempre aiuterà a capire il presente, a ringraziare, a correggere, se fosse necessario, gli errori. Però la memoria del passato non è una mera nostalgia o un ricordo meramente puntuale di cose belle o meno belle. Deve essere un trampolino di costruire il futuro. Il futuro Una grande parola Una grande parola che io vedo nei vostri occhi Una grande parola che vedo anche nei miei occhi Perché lo sguardo Lo sguardo umano è verso l'orizzonte, verso il futuro Una bella parola che Con fatica Impariamo A capire il significato Perché il futuro è più grande di noi Il futuro è pieno di sorprese Non lo conosciamo Il passato già sappiamo che cosa è stato Il futuro no È lì Ci rimanda ad un'immaginazione della realtà O di realtà ancora non esistenti Ma che in certo senso noi potremmo programmare Ma pur programmandole poi Magari non si realizzano Cambiano Il futuro è una profezia Vale a dire È uno sguardo Lontano Lungimirante Che va al di là del contingente Che è capace di penetrare con occhio acuto Ciò che ancora non è Ma potrebbe essere Grazie Alla nostra azione Voi Cari studenti Studentesse Guardate il futuro Oggi Come una componente temporale della vostra vita Che vi appartiene Ma vi sfugge La vita è così Come prendere l'acqua La prendiamo e Se ne va Non la possiamo afferrare Così è la vita Così bella Così sorpressiva Così emozionante Così tragica A volte E il futuro è sempre un enigma irrisolto Basta poco Per cambiarlo in un senso O in un altro Perché ha perso la battaglia Napoleone a Waterloo Ci sono tante ipotesi Ma una delle ipotesi Si dice Non sono totalmente sicuro Che sia che due giorni prima Esplose un volcano Nella zona Della Polinesia Dell'Asia Che ha cambiato Completamente il clima E ha prodotto Delle piogge Quasi torrenziali Nell'area del Belgio In modo tale Che i famosi cannoni D'Aponeone Non hanno potuto operare Come avrebbero dovuto Questo Napoleone Non lo poteva sapere In quel momento Adesso voi Siete in un momento particolare Della vostra vita Dove fate decisioni Che guardano il futuro E riguardano il futuro E oggi Io vorrei Soffermarvi In una virtù Che riguarda il futuro In una sola virtù Anche se declinata Con altre virtù Collaterali Che è la virtù Della speranza Non per caso Il Papa Francesco Ha voluto preparare La gran festa Del Giubileo La quale ci prepariamo A Roma Per l'anno prossimo Dando come input Questo tema Pellegrini Di speranza Ha scritto Recentemente Una bella lettera Citando a San Paolo Spes Non confundit La speranza Non confonde La situazione politica mondiale Economica Sociale Potrebbe indurci A rinunciare A questo sforzo Di guardare con speranza Il mondo Ma invece Credo che L'operazione Che si deve fare Tutta La contraria Chi possiede Questa virtù Della speranza È capace Di arrivare Con lo sguardo Al di là Degli ostacoli Per arrivare A una zona Che Che sia di luce È bello fare L'esperienza Dell'aereo Quando Sono nuvole L'aereo Sorpassa le nuvole Si vede Il sole Noi dobbiamo Guardare Il sole Oltre Le tante Purtroppo Oscurità Che ci circondano Perché siamo Chiamati tutti Ad essere E diventare Segni Di speranza In un mondo Che minaccia Pesantemente Le nuove generazioni Con attualmente Due grandi Focolai di guerra Siamo chiamati Nonostante ciò Ad essere Tutti E a dare Segni di speranza Quali sono I segni Di speranza Che danno I giovani Dell'Università Europea Di Roma Che hanno Finito Il ciclo Magisteriale Dei corsi Di laurea Quali sono I vostri Segni Di speranza Io Declino Questo In quattro Momenti Il primo È questo Il primo Segno di speranza Siete voi Il primo Segno di speranza Siete ognuno Di voi Qui Seduto Seduta Ad ascoltarmi Le vostre persone Il vostro Essere Non c'è bisogno Sempre di manifestare Con azioni Eclatanti Le proprie Personalità Bisogna Tante volte Essere L'Università Europea di Roma Ha voluto Formare in voi Dei professionisti Di qualità In ambito Psicologico Economico Giuridico Vi ha dotato Di conoscenze Di competenze Di una serie Di attrezzi Concettuali Che vi danno La capacità Di districarvi Per la vita Professionale Con una Elevata capacità Per poter Servire la società Lì dove Andrete O dove Già siete Ma credo Che soprattutto L'Università Europea di Roma Ha voluto Formare in voi Le persone Che siete Ciò che voi Già siete E potete Dare agli altri I talenti Che ognuno Di voi Ha ricevuto E che ancora Magari Sono assopiti In voi E che dovranno Risvegliarsi Un giorno Voi siete Questi segni Di speranza Che oggi Il mondo Chiede Perché ognuno Di noi Cerca O dovrebbe Cercare Di essere Una persona Autentica Fedele Al proprio Essere Alla propria Identità Alla propria Missione Allora io Vi ringrazio Per essere Ciò che siete Segni Di speranza Così guardano I genitori Le famiglie I docenti Voi Come segni Di speranza Secondo Voi siete Segni di speranza Perché avete imparato A conoscervi E a tirare Di voi Il meglio Anche lì Dove potrebbe Sembrare Che è il seminato Scarso Questo implica Avere una virtù Per me Fondamentale Che è collegata Alla speranza Ed è La fiducia La fiducia Per guardare La vita Con un occhio Di positività Di benevolenza Di voler Strappare Dalla vita E da voi Stessi Ciò che voi Troverete Di meglio Tante volte Ed è giusto Guardiamo Cerchiamo Di eliminare I difetti Però Non sempre Cerchiamo Di sviluppare Ciò che è di buono È in noi Ed è tanto La speranza Cammina Di pari passo Con la fiducia E noi Vi guardiamo Anche con fiducia Come Coloro Che hanno cercato Di essere Ed imparare Ad essere Appunto Essere umani Rispettosi Della propria Dignità E quella D'altrui Ricercatori Della pace Di sana Convivenza E di armonia Sociale Terzo Momento Di riflessione Sulla speranza Cito Una frase Di Papa Francesco Guardare Al futuro Con speranza Equivale Ad avere Una visione Della vita Carica Di entusiasmo Purtroppo Continua Dobbiamo Constatare Con tristezza Che in tante Situazioni Tale prospettiva Viene A mancare Questa frase Di Papa Francesco Ci invita A caricare L'entusiasmo La parola Entusiasmo Si dice Io non sono Cento per cento Sicuro Che in relazione Alla parola Theos Cioè Ed essere un po' Pieno Di divinità Essere entusiasti Uno dice Come posso Essere entusiasta Se la situazione Intorno a me È piena Di Negatività E noi Non di meno Dobbiamo Essere entusiasti Di ciò che facciamo Di ciò che siamo Non siate Profetti Di sventure Siate sempre Capaci Di ideare Nuovi Progetti Di essere Creativi Di inventare Nuove strade Di sapere Che ogni uomo Ha le proprie Capacità Per poter Rispondere Alle sfide Che gli verranno Presentate La vita La stessa Le presenta Con talenti Che rispecchiano Immaginazione E capacità Di innovare Quarto Sapete essere Segni di speranza Con la vostra Gioia E la vostra Voglia Di vivere In questo Grande Anzi Cosmico Combattimento Tra il bene E il male Voi Non siate Di coloro Che credono Che il male Avrà La meglio Sapete Che questa È un'oressia Che la Chiesa Ha condannato Siate capaci Di vincere Il male Con il bene Questo è il nostro motto Dell'università A scommettere Sempre Per la bontà creativa Per l'innovazione Etica E tecnica Per la capacità Di non accomodarsi Ad un mondo Che tende Ad appiatarci E a togliere La scintilla Della creatività Personale Il futuro Si apre a voi Con speranza E voi Vi aprite Al futuro Voi Io sono Della generazione Giovanni Paolo II Ho sentito dire Tante volte A lui Ai giovani Voi siete La speranza Egli lo applicava Alla Chiesa Voi siete La speranza Voi siete La speranza Del mondo Voi siete La speranza Delle generazioni Che vi hanno preceduto Voi siete La speranza Dell'Italia Dell'Europa Non vi scoraggiate Lungo la strada Ne vi lasciate Vincere Dalla paura La paura Va vinta Con la speranza La paura Va distrutta Con la fiducia Vivete la gioia Della vita giovane Che corre Per le vostre vene E diffondete Intorno a voi Pace E bene Come quell'araldo Del Vangelo Del Vangelo Che nel secolo XIII Percorreva L'Italia centrale Con un messaggio Semplice Ma rivoluzionario Questo poverello Di Assisi Stato capace Nel suo tempo Di dare speranza Ad una Chiesa Che stava Distruggendosi Ad una società Che si apriva A nuovi stili Di vita Ognuno di voi Nella misura Che ognuno Aspetta Possa diffondere Quella parte Di pace Di bene Che gli è propria E che nessuno Lo farà Se voi non lo fate Accettate le sfide Di un mondo Che sembra Inafferrabile Un mondo fluido Un mondo che cambia Un mondo che non si Nel momento Nel quale Sembra che lo abbiamo Capito Non lo capiamo più Perché talmente Va in rapidità Che sembra Che corre A una velocità Molto più rapida Quella velocità Con la quale La nostra mente Può afferrare La realtà Accettate le sfide Di questo mondo Che soltanto Si può cogliere Con l'empatia propria Dell'amore E della fiducia Siate come quella Piccola giovane Delizio Che lasciando A 24 anni Questa vita Finì quel famoso libro Della sua vita Con queste parole Non perché il Signore Nella sua misericordia Preveniente Ha preservato La mia anima Dal peccato mortale Io mi innalzo a Lui Con la fiducia E l'amore Fiducia e l'amore Speranza e carità Sono due ali Che vi faranno volare E voi siete fatti Per volare Oggi Inizia Il vostro volo E noi Dall'Università Europea Con i vostri genitori Vi guardiamo volare Con gioia Con rispetto Accompagnandovi Da lontano In questo volo Della vostra vita Che dovrà essere sempre Per tutti voi E per voi stessi Segno e seme Di speranza Tanti auguri Per Per ciò che siete E Vi desidero Il meglio Per le vostre vite Ringraziamo il nostro Magnifico rettore Per le splendide parole Che ci ha voluto Dedicare A questo punto Abbiamo E ho Il piacere Di presentare L'ospite d'onore Del giorno Della cerimonia di conferimento Dei diplomi di laurea magistrale La dottoressa Elisa Zambito Marsala Solamente un secondo Così Ho modo di annunciare Qualche informazione Riguardo al suo percorso Grazie Nata a Rivoli Il 13 marzo Del 1976 Mi scusi per la data Pardon Laureata nel 2000 In Economia e Commercio Economia aziendale Presso l'Università Degli Studi di Torino Nel 2001 Ha conseguito Un master in organizzazione Presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano Inizia la propria carriera Lavorativa Nella pianificazione strategica In varie società E gruppi bancari Dal 2001 Lavora Ricoprendo Vari ruoli di responsabilità Nell'ambito Della pianificazione strategica Presso WebEgg E controllo di gestione Presso TNT Production Logistics Inoltre Sviluppo organizzativo Presso San Paolo Direzione Direzione personale E organizzazione Del coordinamento Delle attività post-fusione Per l'integrazione societaria Presso Intesa San Paolo E successivamente Dedicandosi Alla divisione Banca dei territori Dal 20 aprile 2020 Al 30 giugno 2022 Ha ricoperto Il ruolo Di amministratore delegato Del gruppo Intesa San Paolo Dal 1 luglio 2022 Al 26 ottobre 2023 Ha ricoperto Il ruolo Di responsabile Della valorizzazione Del sociale E le relazioni Con le università Presso Intesa San Paolo Attualmente Sta ricoprendo Il ruolo di responsabile Di Education Ecosystem And Global Value Programs Occupandosi Delle relazioni Istituzionali E delle iniziative Con le università E le scuole A livello nazionale Ed internazionale Allora a questo punto La accogliamo Benvenuta A lei la parola Buongiorno Buongiorno a tutti Avevo dimenticato Di aver ricoperto Tutti questi ruoli Ma credo che qualcosa Si sia anche tralasciato Allora innanzitutto Desidero ringraziare Il magnifico rettore Pedro Baraon Per l'invito a partecipare A questo importante Evento E' un grande onore Per me essere qui Con voi E vorrei Congratularmi Con tutti Voi Per aver raggiunto Questo straordinario E speciale Importante Traguardo Che è significativo Non solo per la vostra vita Formativa E professionale Ma anche per la vostra Vita personale Quindi oggi E' un giorno Straordinario Un traguardo Che segna La fine di un capitolo Importante L'inizio di un viaggio Ancora più emozionante La laurea E' il frutto Di anni Di lavoro Dedizione E sacrifici Non solo vostri Ma anche Delle vostre famiglie Ognuno di voi Ha superato Tante sfide E' affrontato Momenti Di incertezza E' Di scoraggiamento E poi di felicità Quando gli esami Sono andati bene E quindi avete raggiunto Quindi Obiettivi E risultati Che soltanto ieri Sembravano Sicuramente Sogni lontani Invece Eccoci qui E complimenti Per questo Importante Successo Ora Diciamo Vorrei condurvi Su un percorso Però Quindi che passa Da una visione A dei risultati Però Ci tengo a dire questo Adesso Ripercorrendo Io sono una Che va sempre avanti Quindi adesso però Soffermandomi Su questo discorso Bellissimo Che ha fatto Il magnifico rettore Che ha avuto L'onore E il piacere Di conoscere E con il quale Sono certa Costruiremo Delle iniziative Delle progettualità Per quello Che è il valore Più grande Per il nostro paese Che sono I giovani E Diciamo Il percorso Che poi porta Alla formazione Della prossima Classe dirigente Italiana Io Sicuramente Quello che Non ho Mai fatto E pensare Di non passare Attraverso Sacrifici E Duro lavoro Per arrivare Poi a quello Che Diciamo Ho raggiunto Ma non Non mi sento Mai arrivata No Quindi dico Alle volte Mi ricordano Che sono stata L'unico amministratore Delegato Del gruppo Intesa San Paolo Sapete Una delle prime banche In Europa Ho fatto tante cose Ma È importante Trovare Sempre Soddisfazione Su quello Che si fa E che Tutto quello Che viene Costruito Lasci un Impatto Importante E Non per Essere Autoreferenziali Ma perché Per costruire Modelli Unici E che Possano essere Diciamo Fonti D'ispirazione Per chi Ci sta A fianco E per Chi verrà Diciamo Dopo di noi Oltre Diciamo A Tutto quello Che Diciamo Sempre cercato Di costruire Professionalmente Ho sempre Pensato Che la mia vita Personale E quella Professionale Fosse Un tutt'uno Quindi Anche L'arricchimento Della mia Famiglia Quello che ho potuto Costruire Nonostante Io Frequenti Un Diciamo Un ambito Un'industria Prevalentemente Maschile Che è quella Del finance Del banking Non mi sono Mai Arresa A quelli Che erano I miei Sogni I miei Obiettivi E ho fatto Bene Ho fatto bene Continuerò Su questa Strada E Spero di Diciamo Rappresentare Un esempio Per Tante persone Perché Ce la si può fare Ce la si può fare A conciliare tutto E probabilmente Diciamo La sfera personale Aiuta anche A raggiungere meglio I propri obiettivi Professionali Ora Vorrei condurvi Attraverso Come vi dicevo Una visione E un percorso Che ha Come fine La valorizzazione Dell'individuo E delle Relazioni umane Che Per me Sono fondamentali E che devono Restare Al centro Anche In un'epoca Caratterizzata Da innovazioni E tecnologie Che permeano Tutti gli ambiti Della nostra vita Parto quindi Da una premessa Che ovviamente Si riconduce Al gruppo Per cui io Lavoro Ormai Da tanti anni Mi spiace Che è stata detta La mia Data di nascita Però Sembro più giovane Di quello che sono Così mi dicono Ma in realtà Gli anni ci sono Quindi Diciamo Il nostro gruppo Attribuisce E ci tengo A dirlo Proprio per Diciamo Arrivare Poi a una filale Attribuisce Un ruolo centrale I progetti Rivolti All'education Alla crescita Civile E culturale Della società Il sostegno Allo studio Alla ricerca L'innovazione E la sostenibilità Sono alcuni Degli elementi Fondamentali Del nostro piano Industriale Quindi non sono Solo Dichiarazioni Ma sono Obiettivi Su cui io Personalmente Sono una Dei top manager Incaricata Per Diciamo Raggiungere Poi i risultati E sono Radicati Nella storia E nel modo Di operare Del nostro gruppo Prima di proseguire Vorrei lanciare Un primo video Quindi chiedo Alla regia Supporto Un primo video Un primo video Un primo video Un primo video Quindi in un mondo in costante evoluzione caratterizzato da un'accelerazione dei cambiamenti ci troviamo di fronte a sfide globali guidate da trend trasformativi come la transizione digitale accelerata dall'artificial intelligence, la space economy, i fondali marini, la blue economy, la silver economy, le life science per citarne soltanto alcune. Per affrontare queste sfide e supportare il paese intesa San Paolo come banca sistemica sviluppa programmi che prevedono l'attivazione di osservatori dedicati con università di eccellenza, percorsi di education con scuole e università e partnership ad alto impatto strategiche per il gruppo e per il paese con attori nazionali ed internazionali. L'obiettivo è quello di creare azioni e modelli di intervento, di innovazione e sostenibilità che generino al contempo valore per il business e creino nuove opportunità per il nostro paese. La nostra capacità di innovare dipenderà da quanto saremo capaci di supportare, stimolare e trattenere talenti come voi e di formare i nuovi professionisti e scienziati del futuro. Questa necessità è particolarmente critica per l'Italia considerando le sfide demografiche legate all'invecchiamento della popolazione del nostro paese. Anche per questa ragione come gruppo contribuiamo a supportare il mondo accademico per rispondere alle esigenze in rapida evoluzione del tessuto industriale e per favorire la sua integrazione con aziende italiane ed internazionali. Adesso vorrei introdurre il tema delle nuove competenze, che è un tema su cui voi dovrete metterci la testa costantemente nel percorso professionale che andrete ad affrontare e vorrei anche qui partire da un video. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Allora, i dati dei nostri osservatori cosa hanno evidenziato? Hanno evidenziato un persistente mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia. Pensate che nel 2023 sono stati stimati quasi 2 milioni e mezzo di profili di difficile reperimento in Italia con un incremento di circa il 20% rispetto all'anno precedente, quindi a fronte di un tasso di disoccupazione giovanile di oltre il 20% nel 2023. Non parlo di tasso di disoccupazione in generale che è di circa il 7% con sicuramente contrazioni grazie anche alle manovre fatte dal governo, ma il tasso di disoccupazione giovanile continua ad aumentare e siamo nel fanalino di coda dei paesi in Europa. Quindi questi dati vanno analizzati costantemente per capire le ragioni e quindi bisogna affiancare le nuove generazioni per cercare di trovare delle soluzioni concrete. Quindi questo squilibrio rappresenta un ostacolo significativo allo sviluppo economico e una importante sfida per i giovani che entrano nel mondo del lavoro. Eppure nel nostro lavoro quotidiano a fianco e a supporto delle università si evidenzia con chiarezza il livello avanzato dell'Italia la cui ricerca in alcuni ambiti è tra le prime in Europa e da livello internazionale. Quindi uno dice ci sono questi dati, però voglio dire dal punto di vista accademico siamo tra i primi in Europa. Per questo motivo una banca come Intesa San Paolo non sta a guardare, è uno degli attori, diciamo, protagonisti dell'ecosistema, ma deve agire insieme ad altri attori. Quindi cosa abbiamo avviato? L'avete visto nel video, abbiamo avviato a maggio del 2023 un osservatorio che abbiamo denominato Look Forward che è diventato un asset strategico del gruppo che abbiamo messo a disposizione del Paese quindi di attori istituzionali, parlo di ministeri, del governo, delle aziende, di anti-profit e no-profit. L'abbiamo sviluppato con partner di eccellenza, accademici e industriali. Cosa si pone questo osservatorio? Si pone l'obiettivo primario di individuare quali saranno le competenze maggiormente richieste dalle aziende nel prossimo futuro. In particolare fa bisogno di nuove competenze, di rigenerazione di competenze su industrie che ci rappresentano a livello internazionale. Cioè noi abbiamo dei settori che si distinguono a livello internazionale ma hanno bisogno di una rigenerazione di competenze. Faccio l'esempio dell'Agritec, la tecnologia applicata all'agricoltura. E diciamo di far bisogno di competenze, di profili a sostegno di nuovi business che diventano strategici per il Paese. Faccio un esempio per tutti la Blue Economy. Con il nostro osservatorio per le competenze del futuro abbiamo esplorato attraverso il coinvolgimento pensate di oltre 700 aziende diversi settori dell'economia cogliendone le evoluzioni relative alle richieste di competenze identificando le evidenze comuni. Emerso come in un mondo in cui è in costante aumento la domanda di competenze legate alle nuove tecnologie come l'artificial intelligence che sta facendo da protagonista in questo momento e alla sostenibilità le so skill, cosa sono le so skill? Le competenze trasversali quali il pensiero critico il problem solving la creatività la resilienza la capacità di costruire network e fare alleanze diventano sempre più cruciali e strategiche in quanto forniscono gli strumenti determinanti per garantire competitività in un mercato del lavoro in continua trasformazione. Le professioni del futuro saranno sempre più costituite da una fusione tra competenze tecniche quindi le nuove tecnologie, la sostenibilità eccetera e le competenze trasversali e relazionali. Quindi diciamo che quanto emerge dall'osservatorio quindi stiamo parlando di uno strumento che diciamo è diventato uno strumento in pochissimo tempo proprio perché è tutto in rapida evoluzione quello che emerge ci rassicura e sicuramente ci conforta e quindi io vi voglio portare questo messaggio in un mondo in cui le tecnologie aumentano l'interpretazione umana e l'individuo restano al centro protagonisti dello sviluppo e delle trasformazioni aziendali capaci di portare valore unico e distintivo creando modelli originali e garantendo competitività alle imprese ed alle organizzazioni nel medio e lungo termine. per mettere a sistema le risorse che un gruppo come il nostro è in grado di mobilitare noi siamo un gruppo di 130.000 dipendenti prevalentemente in Italia ma in tutto il mondo e cogliere le opportunità offerte dalle nuove economie ci siamo dotati di un framework quindi un metodo basato su quattro leve di intervento la cui componente chiave è la collaborazione con i partner accademici istituzionali e industriali nazionali ed internazionali e con i rappresentanti del territorio cioè questo a dirvi che la costruzione di ecosistemi nella vostra vita professionale sarà determinante cioè la prossima classe dirigente deve assolutamente avere chiaro in testa che da soli non si arriva da nessuna parte bisogna costruire alleanze con i diversi attori dell'ecosistema la prima leva quindi è la costituzione di osservatori dedicati che raccolgano le migliori energie del nostro mondo accademico per fornire ai settori ai decisori e al paese analisi e informazioni su tendenze modelli, soluzioni e tecnologie emergenti in modo da orientare gli sforzi nel medio e lungo termine a beneficio dell'intero ecosistema la seconda leva è rappresentata dal sostegno all'education cioè noi dobbiamo sempre ricordarci che le nuove generazioni sono una priorità per tutti per tutte le organizzazioni quindi sostegno all'education sia con scuole di ogni ordine grado con cui noi progettiamo realizziamo programmi ispirazionali che promuovono la dimensione della ricerca sin dalle prime fasi del percorso di studio continuando a sostenere la valorizzazione del talento gli scambi internazionali e l'attrazione di talenti dall'estero già oggi stiamo realizzando diversi eventi ispirazionali e formativi in presenza e in digitale stiamo affrontando un piano che entro dicembre toccherà 10.000 studenti in presenza nelle principali città italiane e appunto con il coinvolgimento diretto delle università e delle scuole la terza leva di intervento è rappresentata dal trasferimento tecnologico che deve essere sempre più vicino a noi cioè non dobbiamo vederlo con angoscia l'obiettivo è quello di realizzare iniziative che mettano in interconnessione la filiera tecnologica con la ricerca e i siti produttivi e che generino valore a lungo termine la quarta e ultima leva è l'attenzione alla sostenibilità cioè una nuova economia non può nascere e crescere e svilupparsi perché muore dopo poco tempo muore se non è sostenibile quindi questo ovviamente cosa ci comporta? ci comporta una serie di attività di acculturamento partendo soprattutto dalle nuove generazioni identificando e valorizzando le soluzioni sostenibili allora in relazione alle partnership e il mondo accademico con il mondo accademico che diciamo un gruppo come il nostro riesce ad affrontare ripeto siamo una banca sistemica che affianca il paese le organizzazioni e i cittadini abbiamo più di 160 collaborazioni attive con oltre 70 tenei italiani praticamente quasi tutti su circa 100 totali quindi il resto l'abbiamo attivato con grandi e distintive università internazionali cito Cambridge cito Oxford eccetera il nostro sostegno al mondo accademico ci tengo a raccontarlo si esplica perché è una cosa diciamo che ho su cui io credo e da quando ho assunto questo incarico dichiarato ai mercati si sviluppa lungo 5 linee di intervento il sostegno alla ricerca ad esempio attraverso il sostegno di borse di dottorato e di ricerca e la nostra partecipazione appartiene a reati estesi e a centri nazionali per la ricerca la seconda leva è diciamo il supporto di iniziative che ci aiutino a contrastare la fuga dei cervelli qui ci tengo a evidenziare non per chiudere l'Italia perché l'Italia deve essere aperta ma per renderla attrattiva per studenti e docenti con questo cosa facciamo valorizziamo cattedre universitarie appunto andiamo a identificare dei profili di docenti che sono andati via dall'Italia perché non trovavano soddisfazione professionale diciamola così e ce li riportiamo in Italia ovviamente un percorso che facciamo insieme alle università questo sta generando un riscontro pazzesco quindi altri docenti italiani che arrivano presso dall'estero presso i nostri atenei e diciamo docenti stranieri che si muovono verso gli atenei italiani e studenti internazionali che vengono presso i nostri atenei il terzo punto è l'internazionalizzazione delle università italiane cioè noi supportiamo percorsi anche sulle scuole adesso consegneremo a fine a fine giugno 20 borse di studio per il quarto anno all'estero per i ragazzi delle scuole ma creiamo percorsi anche universitari perché noi abbiamo bisogno di talenti italiani consapevoli del contesto in cui vivono cioè voi dovete sempre visto abbiamo parlato di questo mondo in continua e rapida evoluzione abbiamo bisogno che la prossima classe dirigente sia consapevole di cosa si vive a livello internazionale di come si vive l'Italia dall'estero e cosa si può fare per aggiungere valore al nostro paese ma lo possiamo sapere soltanto se la guardiamo anche con occhi esterni il quarto punto è il sostegno su cui io tengo tantissimo è il sostegno del talento e del merito ovviamente questo grazie quindi lo facciamo attraverso delle borse di studio del talento e del merito indipendentemente dall'estrazione sociale degli studenti quindi noi cerchiamo di promuovere appunto il talento la determinazione lo spirito di sacrificio e quindi partecipiamo a sostenere borse di studio per i ragazzi meritevoli ovviamente sosteniamo l'educazione inclusiva questo è un punto fondamentale quindi diciamo ci sono tanti ragazzi che non possono permettersi come estrazione sociale di frequentare un percorso accademico e diciamo noi cerchiamo di trovare delle soluzioni e l'ultimo punto che è un po' la chiave del mismatch tra domanda e offerta di lavoro è l'integrazione con il tessuto industriale quindi cerchiamo di attivare delle iniziative, dei programmi che cercano di mettere in interconnessione i percorsi accademici con i reali fabbisogni delle aziende quindi diciamo cerchiamo di stimolare una frequenza assidua tra atenei e aziende solo così diciamo gli uni contaminano gli altri per fare in modo che i ragazzi quando escono dei loro percorsi di studio siano sempre più consapevoli di quelli che sono i fabbisogni delle aziende e più consapevoli dei propri obiettivi quindi queste sono le linee strategiche che ci consentono di dialogare in modo pieno con le università realizzando appunto concretamente l'impegno del gruppo a favore delle nuove generazioni ho finito però ho bisogno di avere adesso su questo cercherò di non emozionarmi come ho anticipato al magnifico rettore allora ripercorrendo la mia esperienza di professionista manager figlia donna e madre io vorrei concludere quindi con queste parole ho dimenticato anche sorella perché ho anche anche questo siate coraggiosi seguite le vostre passioni e sognate in grande per i sogni le asticelle non sono mai troppo alte rischiate non abbiate paura del fallimento non lasciate che la paura dell'ignoto vi trattenga abbracciate l'incertezza con la stessa determinazione con cui avete affrontato questi anni di sacrifici e di studio ricordate e su questo ci tengo a dire diciamo a evidenziarlo che le connessioni che creiamo non solo ampiano i nostri orizzonti ma costruiscono ponti verso opportunità infinite il vero potere del network risiede nella capacità di valorizzare semplici incontri in relazione a diciamo prospettive di appunto relazioni durature e significative che vi consentiranno di accelerare i vostri traguardi e la vostra crescita professionale quindi il network e le alleanze saranno per voi determinanti e un tempo questo che viviamo in cui la generosità fa parte della managerialità cioè essere inclusivi è un aspetto fondamentale così come la capacità di creare immediatamente relazioni e intuire che quella relazione oggi non so a cosa mi porterà ma intuisco che per me avrà valore siate curiosi siate innovativi originali e non smettete mai di imparare il mondo ha bisogno delle vostre idee del vostro entusiasmo della vostra energia e del vostro spirito indomabile grazie a tutti ringraziamo la dottoressa per il suo splendido intervento è stato un vero piacere grazie dunque ringraziando la dottoressa Elisa Zambito Marsala invito a questo punto per concludere il nostro ciclo di saluti istituzionali il nostro prorettore il professore Alberto Gambino per rivolgere il suo personale saluto ai nostri cari laureati prorettore la invitiamo benvenuto è lei la parola buongiorno grazie e a breve vi verranno consegnati questi diplomi di laurea magistrale e questa espressione magistrale probabilmente i nostri coordinatori nel loro discorso lo metteranno in luce perché siamo onesti è qualcosa di artificiale questa magistralità delle lauree queste sono quelle che si chiamavano fino a pochi anni fa le lauree specialistiche e cioè erano delle lauree che davano qualche competenza molto puntuale rispetto a dei corsi che davano un'infarinatura generale su alcuni saperi poi a un certo punto in Europa un gruppo di accademici e di funzionari hanno pensato di dargli questa coloritura e gli hanno cambiato nome ma sono uguali sono sempre le lauree specialistiche non cambia nulla i settori scientifici disciplinari sono gli stessi gli insegnamenti sono gli stessi i docenti vengono arruolati nello stesso modo le ricerche si fanno nello stessa maniera eppure questo tocco potremmo dire di sacralità di magistralità è un orizzonte è un anelito è in qualche modo un auspicio è perché le competenze sono importanti ma l'abbiamo sentito adesso dire occorre anche il saper trafficare queste competenze e cioè occorre dargli quel tocco di essere magister cioè essere testimoni di competenze ed essere testimoni di competenze finalizzate però a degli obiettivi che sono legati oggi diciamo il benessere noi abbiamo sempre detto bene comune è perché si può essere anche cattivi maestri si possono anche avere delle competenze straordinarie ma utilizzate in modo spietato la storia ce l'ha insegnato e quindi non basta essere laureati magistrali tanto più che una qualificazione ho detto in maniera un po' provocatoria artificiale ma occorre partire dalla laurea specialistica far emergere la propria capacità di utilizzarla per il meglio e nel momento in cui si utilizza per il meglio diventare un punto di riferimento ed essere punto di riferimento significa soprattutto essere la persona il professionista che viene chiamato quando sorgono dei problemi la persona a cui si può fare affidamento la persona solida che viene comunitariamente ritenuta un punto di riferimento quante volte noi nella costruzione di questo ateneo il rettore lo sa bene ci siamo trovati in tante piccole problematiche anche molto semplici un'autorizzazione una concessione una ristrutturazione da fare un mancato accreditamento informatico quante volte i nostri coordinatori lo sanno poi spesso quel problema lo risolveva un funzionario una segretaria una persona che avevamo a fianco e salvava magari il corso di laurea pensate quanto è importante saper stare dentro i problemi e risolverli questo significa laureato magistrale significa un laureato che ha una qualificazione in più del mero laureato triennale che in fondo ha delle competenze di base che sono propedeutiche anche al mondo del lavoro perché spesso basta anche la laurea triennale per lavorare non c'è bisogno di quella magistrale ma quando si acquisisce quella magistrale c'è una responsabilità in più che è quella di proporsi come una testimonianza di chi vuole vorrebbe essere magister e che non basta evidentemente un diploma che adesso verrà consegnato a ciascuno di voi però quel diploma è indispensabile perché il non averlo significa non avere quella competenza che vi qualifica non basta ma serve e c'è un altro tratto di strada da fare insieme quindi davvero l'augurio più forte da parte mia come in qualche modo anche del rettore è quello di usarlo bene questo diploma magistrale ma questo sta a voi noi facciamo un passo indietro adesso ci troverete ci verrete a trovare ci racconterete tante cose però sta soltanto nelle vostre mani auguri davvero di cuore ancora grazie al nostro prorettore iniziamo a questo punto con il conferimento dei diplomi di laurea magistrale partendo da giurisprudenza invito a raggiungermi qui al centro del palco il coordinatore del corso di laurea in giurisprudenza il professor Agnello Merone per rivolgere il suo personale saluto e augurio ai laureati benvenuto della parola buongiorno grazie a tutti devo dire che nella mia esperienza di coordinatore è il primo anno che partecipo a questo evento normalmente infatti sono impegnato in questo periodo dell'anno come delegato del rettore in giro per concludere accordi e sviluppare progetti di internazionalizzazione a beneficio di tutti gli studenti è un momento molto bello in cui ovviamente è importante celebrare il vostro percorso il nostro percorso il risultato che è stato raggiunto e però è un momento di cui non ho mai avvertito specificamente l'assenza per così dire perché il bello che si riesce a realizzare in questa università è che normalmente il rapporto con gli studenti è costruito nel tempo e ha un seguito anche dopo il conseguimento della laria la cerimonia odierna non è un passaggio di saluto obbligato lo è senz'altro per alcuni ma nella maggior parte dei casi invece il rapporto con gli studenti prosegue io non voglio rubare molto tempo a quello che invece è un momento degli studenti mi piace soltanto riallacciarmi brevemente ad alcune cose che ho sentito sul concetto di speranza è verissimo che il Papa ci chiede di portare la nostra attenzione su questo concetto che sarà al centro del giubileo ma che è al centro già da tempo e lo è sempre mi piace però evidenziare ai nostri studenti che nell'esperienza che hanno alle spalle nel percorso che hanno svolto in questi cinque anni in realtà hanno imparato già moltissimo su come si coltiva la speranza e i nostri ospiti l'hanno già messo in evidenza da un lato perché sperare vuol dire chiedere qualcosa di meglio a se stessi per sé e per gli altri e questo normalmente si ottiene soltanto nella collaborazione con gli altri si diceva prima da soli non si arriva da nessuna parte c'è sempre bisogno di legarsi a delle persone che ci accompagnano nel percorso e ci aiutano a raggiungere questi obiettivi e poi perché al tempo stesso nell'impegno accademico che ciascuno di voi ha svolto avete imparato che in realtà sperare non deve essere un'idea lontana una letizia incostante il fatto che magari un giorno raggiungerò un obiettivo deve essere un perseverare quotidiano un impegno nel presente che fa sì che quell'obiettivo quel risultato possa concretizzarsi quindi il mio augurio ovviamente è di portare con voi questo bagaglio e mi unisco a quanti mi hanno preceduto nell'agurarvi il meglio per il futuro ancora grazie al nostro coordinatore nonostante sia la prima cerimonia vedo che però già è allineato sul fatto che deve rimanere qui sul palco quindi questo mi fa molto piacere grazie quindi allora a questo punto siamo già allineati invito a questo punto il nostro rettore il nostro ospite d'onore di nuovo a raggiungerci sul palco in modo da cominciare con la consegna con il corso di laurea magistrale in giurisprudenza chiamando a Zoni Sofia la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato alla luce della riforma Cartabia tra il rettore il professore tra il rettore il professor Merone sì come riferimento potete prendere grazie passiamo a Davidovic Federico le azioni tokenizzate bravo grazie passiamo a Di Mari Maria Giulia il risarcimento del maggior danno da svalutazione nelle obbligazioni pecuniarie e il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali grazie grazie passiamo a Moretti Giulia la digitalizzazione della sanità italiana durante il periodo del covid-19 progressi limiti e confronti grazie passiamo a Negro Eleonora la responsabilità per danno era reale nell'epoca dell'emergenza grazie grazie 27 Gianfilippo sostenibilità dell'impresa e doveri degli amministratori grazie 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 mille invito intanto a riprendere tutti i posti in platea grazie grazie a tutti prego nel frattempo ci sarà un po' di traffico per ristabilizzare il nostro palco a questo punto passiamo al conferimento dei diplomi di laurea magistrale in economia e management invito quindi a raggiungermi qui sul palco in rappresentanza del coordinatore del corso di laurea il professor Giovanni Farese per rivolgere il suo personale augurio a tutti i laureati giustamente è il coordinatore del corso di laurea chiedo scusa a volte il testo non è proprio mio amico buongiorno a tutti buongiorno intanto auguri di nuovo a tutte e a tutti di cuore da parte mia e da parte di tutto il corpo docente del corso di laurea magistrale in economia e management dell'innovazione dunque io sono molto grato agli organizzatori di questa giornata che ci chiedono di intervenire come professori in questa occasione però in un certo senso i professori hanno già parlato i professori hanno parlato in aula i professori hanno parlato fuori dall'aula hanno parlato spero si spera anche con l'esempio a questo punto tocca a voi parlare tocca a voi parlare pensare tocca a voi agire tocca a voi dare l'esempio vedete una delle ragioni per cui vale la pena di studiare l'economia in questa università è perché noi ci ispiriamo anche nell'insegnamento dell'economia a quella filosofia personalistica all'economia umana all'economia buona diciamo così non all'economia che uccide come Papa Francesco ha richiamato più volte nei suoi discorsi e nei suoi interventi dunque io vi voglio lasciare con questo pensiero quest'anno sono 150 anni dalla nascita di un grande economista che è stato anche il primo presidente della nostra Repubblica Luigi Einaudi un conterraneo credo della nostra ospite se il mio orecchio non mi tradisce sul suo accento era piemontese Luigi Einaudi e dunque Luigi Einaudi amava molto una citazione un pensiero di un grande economista e pensatore inglese dell'Ottocento John Ruskin che fu molte cose anche uno storico dell'arte uno scrittore ma anche un economista il quale John Ruskin diceva ciò che conta non è il reddito e non è neppure l'uso che facciamo del nostro reddito ciò che conta è la vita che viviamo mentre produciamo quel reddito io questo credo che sia molto coerente con quell'impostazione che ho chiamato appunto umanistica e personalistica con quella intonazione personalistica che abbiamo cercato di dare all'insegnamento dell'economia in questo biennio magistrale dunque con questo pensiero e con questo augurio che vi saluto e vi attendo qui per la consegna del diploma grazie ancora grazie al coordinatore del ciclo economia e management cominciamo ad allestire il palco per la consegna dei diplomi di laurea magistrale invitiamo invitiamo il rettore il nostro ospite donare a raggiungerci qui sul palco seguendo lo stesso schema di prima grazie teo com'è leggermente più a destra noi ok bene iniziamo problemi tecnici cominciamo con base 8 Daniele il settore dell'automotive innovazioni e strategie di un settore controverso grazie Bruni Mattia InterSomer e lo sviluppo delle reazioni economiche internazionali dell'Italia nel secondo topoguerra laureato Collode grazie passiamo a Colò Andrea sostenibilità innovazione e politiche europee il caso Mercedes-Benz Ambition 2039 grazie De Palma Francesco l'IRPEF ragioni limiti e criticità del sistema italiano di imposizione dei redditi delle persone fisiche grazie passiamo a Mancini Giulia economia felicità ed etica un percorso possibile grazie passiamo a Pace Federica neuromarketing e metaverso le strategie esperienziali dei brand del lusso laureata Collode grazie grazie passiamo a Ponti Leonardo l'evoluzione storica del sistema della giustizia tributaria grazie passiamo a Tagatio Kenye Patern Fernandel Intelligence Parametric Insurance and Climate Risk caso di studio coltivazione di fagioli Abandon West Cameroon grazie complimenti rinnoviamo quindi i nostri più sentiti complimenti ai nostri laureati invitiamo a questo punto il nostro lettore ospite d'onore il coordinatore a raggiungere i posti in platea grazie riallestiamo il nostro palco passiamo quindi a questo punto al conferimento di diplomi di laurea magistrale in psicologia invito ora a raggiungermi qui al centro del palco la professoressa Anna Contardi coordinatrice del corso di laurea magistrale in psicologia per rivolgere il suo personale augurio e saluto ai laureati buongiorno buongiorno ben arrivato che bello entusiasmo che energia professoressa la fascia la fascia per le foto la fascia la fascia allora è stato un onore sentire i discorsi che mi hanno preceduto partire dal magnifico rettore dall'ospite dal nostro vicerettore aggiungo poche cose ma che vogliono colpire diciamo così il vostro futuro la vostra responsabilità la professione di psicologo è una professione sanitaria voi lo sapete ed è quindi vi troverete a lavorare nei luoghi che non solo sono i centri di salute mentale le cliniche gli ospedali ma in tutti i luoghi dove ci sono persone persone con il loro valore persone che voi avrete la responsabilità di far fiorire di toccare quelle leve che permettono poi al valore che tutte le persone hanno tutte le persone hanno di svilupparsi ultimamente uno studente mi ha ringraziato per delle parole che ho detto a lezione di incoraggiamento che i futuri psicologi avrebbero dovuto utilizzare nei momenti in cui le persone incontrano il buio quel buio che richiama buio e a volte non permette appunto di accendere la luce bene quelle parole erano semplici ecco non pensavo di aver detto una grande cosa ma probabilmente quelle parole hanno toccato quella persona in quel momento e quindi sono state utili sia penso per aiutare lo studente ma anche per proiettarsi nel futuro quando le avrebbe potute utilizzare ecco quindi il mio veramente aggiungo poche cose perché sono state dette cose magnifiche bellissime e dico di fare un po' di più ecco quando vi troverete a lavorare di aggiungere qualcosa in più quella firma che porta il bene che porta la luce alle persone che incontrerete ecco questo è il mio augurio di poterlo sempre fare nella vostra professione e ringraziamo ancora una volta la professoressa Contardi a cui chiedo gentilmente di attendere qui al centro del palco rettore ospite d'onore vi prego di aggiungerci qui teniamo molto in movimento i nostri ospiti facciamo fare costantemente iniziamo Affaitati Chiara sindrome di Stoccolma analisi di casi di cronaca e indagini relativa all'attaccamento laureata Collode grazie Angelucci Lorenzo fare ed essere nel coaching approfondimento trasversale sulla natura e sulla metodologia di coaching sì grazie passiamo passiamo ad Astorino Simona trauma dello sviluppo sintomi di compartmentazione dissociazione somatoforme uno studio di analisi mediazionale laureata Collode grazie passiamo a Bartozzi Federico verso un futuro ibrido l'intelligenza artificiale nell'apprendimento e nella formazione grazie passiamo a Bisante Tiziano nuove tecnologie e psicologia la realtà virtuale ed il suo impatto nei contesti lavorativi grazie 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 boccatonda priscilla attaccamento e attenzione quale relazione laureata collode grazie 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 passiamo a caroli passiamo a caroli giulia the dark side of the life versione italiana della morbid curiosity scale e curiosità morbosa nei fandom horror e thriller laureata collode grazie 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 passiamo a caroli damiano il change management nel processo di digital transformation laureato collode grazie grazie passiamo a cicconi alessia la disabilità intellettiva l'intervento cognitivo comportamentale in ambito familiare e scolastico grazie passiamo a ciniglia vittoria un'analisi delle variabili psicologiche come moventi del comportamento d'acquisto dei consumatori grazie cornalino silvia valutazione della qualità del sonno nei pazienti post ictus laureata collode grazie passiamo a corsale ottavia studi propedeutici ed analisi sistematica dei modelli teorici di riferimento nelle lezioni e validazione di indagini applicative nella future competencies laureata collode grazie passiamo a decoll veronica il trattamento dei disturbi della dimensione traumatico dissociativa comparazione tra modelli di intervento secondo gli ultimi contributi della ricerca laureata collode grazie passiamo a desantis maria clara patos etanatos anatomia del serial killer laureata collode grazie passiamo ad emilio giorgia l'efficacia del coaching e della coaching psychology nel supportare le donne a superare le sfide del perfezionismo e del senso di colpa associati al lavoro e alle responsabilità familiari grazie passiamo a di marcio azzurra nuove prospettive di trattamento per bambini con sviluppo traumatico laureata collode grazie passiamo a esposito alessia la valutazione dei sintomi di ansia e depressione nei pazienti post stroke grazie grazie fantini giorgia competenze soft skills evoluzione di un costrutto strategico per la gestione delle risorse umane laureata collode grazie passiamo a Ferrari Carlotta il disturbo a stress post traumatico complesso e il disturbo borderline analogie e differenze grazie fumasoni giulia la plus dotazione intellettiva un bisogno educativo speciale laureata collode grazie passiamo a Gargano Caterina il percorso verso l'esperienza ottimale intesa come fonte efficace di benessere e successo del dipendente e delle organizzazioni lavorative grazie passiamo a Lanceri Benedetta nuovi orizzonti da leadership uno studio empirico sul valore dell'intelligenza emotiva nel settore pubblico e privato laureata collode passiamo a Leoni Alessia intervento psicologico a distanza in ambito B2B l'istressor degli operatori laureata collode grazie liberato scioli Lorenzo la complicata relazione tra disturbi dell'alimentazione e della nutrizione ed autolesionismo grazie merola Francesca romana la vergogna nel disturbo da stress post-traumatico complesso grazie passiamo mia esco eduard leonard attitudine alla pace e alla guerra e atteggiamenti verso i rifugiati ucraini uno studio sul ruolo di mediazione della system justification grazie passiamo a Occhiena Arianna il decremento della connettività delta nel front parietal network è associato con il drop out in pazienti con dipendenza da cocaina laureata collode grazie palmieri Anna Lucia il ruolo degli incentivi motivazionali sulle abilità numeriche in adolescenti con e senza discalculia evolutiva laureata collode grazie parisi martina caratterizzazione dei comportamenti ripetitivi e interessi distretti nei disturbi del neurosviluppo confronto tra sindrome di down e autismo belluzzi michela quali sono i benefici evidence based riscontrabili in un'azienda interessata alla salute organizzativa l'importanza di un luogo di lavoro inclusivo e una panoramica di business cases platina martina tratti di personalità disfunzionali trauma infantile in una popolazione di homeless un'indagine esplorativa laureata collode grazie pugliesi arianna pia famiglie disfunzionali il rifiuto di un genitore grazie passiamo a re giulia idoneità a rendere testimonianza i minori vittime di abusi sessuali maltrattamenti sono testimoni attendibili una review sistematica della letteratura laureata collode grazie regis chiara change management la gestione dell'errore come fonte di apprendimento funzionale ai processi di cambiamento laureata collode grazie ambiente rizzo chiara ambiente realtà virtuale uno studio sperimentale laureata collode grazie romagnoli giorgia rigenerare dignità e opportunità analisi dell'inclusione lavorativa dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso il progetto welcome working for refugee integration laureata collode grazie passiamo a sacchett allegra leader si nasce o si diventa leadership al femminile dalla storia fino alle organizzazioni passiamo a salustro alessia narcisismo vulnerabile grandioso uno studio esplorativo sulla relazione dei due fenotipi con trauma infantile stile d'attaccamento dissociazione stile genitoriale e autostima laureata collode grazie passiamo a santarsiero fabiana valutazione del minore vittima di abusi sessuali e maltrattamenti la psicologia della testimonianza laureata collode grazie santilli oksana anoressia nervosa e covid 19 l'impatto della pandemia da covid 19 tra le adolescenti e sull'approccio terapeutico grazie passiamo a scoma lorenzo smr beta neurofeedback nel trattamento di pazienti psichiatrici con disturbi dello spettro impulsivo compulsivo uno studio pilota naturalistico laureato collode grazie passiamo a tamborino alessia disturbi dell'alimentazione della nutrizione focus sul mondo delle emozioni grazie grazie teodolica milla self compassion disregolazione emotiva loneliness e psicopatologia generale uno studio correlazionale in un campione non clinico laureata collode tortora nicola morstua vitamea il ruolo della competitive jungle nella relazione tra i valori e l'atteggiamento positivo e negativo nei confronti dei rifiugiati ucraini laureato collode varchetta giulia la malattia di alzheimer un nuovo approccio nel panorama diagnostico i sistemi computerizzati e la virtual reality grazie vecchio luca intelligenza artificiale e orientamento nei contesti educativi opportunità o minaccia laureato collode grazie di prima emma la natura antropologica della relazione terapeutica grazie politi desiree maria pia ruolo di mindfulness accettazione e autocompassione per il benessere psicologico dei pazienti con sintrope del colon irritabile laureata collode grazie bungaro nicol la crescita post-traumatica nelle donne con cancro al seno e l'importanza di un approccio incentrato sulla persona una revisione sistematica di studi longitudinali laureata collode grazie rinnoviamo i nostri complimenti ai nostri laureati invitiamo tutti a riprendere posto in platea veniamo ora ci avviciniamo verso la conclusione della nostra cerimonia di conferimento dei diplomi di laurea magistrale di quest'anno con la prima edizione del premio in memoria del professor Luca Iani l'università europea di Roma in memoria dell'illustre professore al fine di riconoscere e premiare il merito personale mostrato nell'ambito di un approfondimento scientifico su temi di psicologia della salute ha deciso di indire la prima edizione del bando di concorso premio miglior tesi di laurea magistrale in memoria del professor Luca Iani hanno partecipato 13 studenti laureati presso l'università europea di Roma negli anni accademici 2020 2021 2021 2022 e 2022 2023 la giuria è formata dai professori Claudia Navarini Marco Innamorati e Marco Lauriola invito a raggiungermi nuovamente la professoressa Anna Contardi al centro del palco lasciando lei la parola prima della nostra premiazione grazie grazie professore la conoscenza di Luca continua anche dopo la sua scomparsa il 24 settembre del 2022 tante cose tante cose di Luca le continuiamo a scoprire e a vedere nel buon esito di tanti semi che lui ha gettato nel Vangelo di Matteo è citata un'immagine che ha richiamato in me il lavoro svolto da Luca dai loro frutti li riconoscerete si raccolgono forse uve dalle spine o fichi dei rovi così ogni albero buono dà frutti buoni ogni albero cattivo dà frutti cattivi non può un albero buono dare frutti cattivi né un albero cattivo dare frutti buoni perciò dai loro frutti li riconoscerete i semi sono gli argomenti di psicologia clinica della salute a cui lui teneva tanto ha creato una scuola con i suoi allievi le sue ricerche le tesi di laurea e noi con questo premio vogliamo mantenere i suoi obiettivi è un impegno che noi professori di psicologia tutti i professori del dipartimento il senato accademico e il consiglio di amministrazione abbiamo abbracciato leggo ora gli esiti del lavoro della commissione menzione d'onore e pari merito a Desiree Maria Politi ha dedicato il suo lavoro di tesi ad uno studio originale condotto su un campione di pazienti con sindrome del colon irritabile ha evidenziato l'importanza di pratiche di mindfulness accettazione autocompassione per il benessere psicologico di pazienti affetti da malattie croniche la tesi è stata particolarmente apprezzata dalla commissione per le sue ricadute applicative in ambito sanitario complimenti menzione d'onore anche a Nicole Bungaro che ha condotto una review sistematica di studi longitudinali riferiti a donne con crancoro a seno la sua tesi ha brillato per il rigore metodologico nella revisione della letteratura scientifica fornendo una solida base per future ricerche e pratiche cliniche orientato al benessere delle pazienti infine la vincitrice del premio la dottoressa Francesca Russo ha effettuato uno studio originale condotto su un ampio campione di pazienti con diabete di tipo 1 ha esaminato una condizione clinica meno frequentemente studiata in relazione alla regolazione emotiva la tesi si è distinta per il suo rigore metodologico e l'originalità delle sue ipotesi la commissione ha apprezzato le considerazioni sul possibile impatto applicativo delle sue scoperte in ambito sanitario complimenti Luca ci ha lasciato questo il benessere psicologico può intervenire anche a favore delle persone che hanno una patologia spesso si sente dire che la salute è tutto no no la salute può essere coltivata anche quando si ha una patologia quando si è in grave condizioni quando si soffre ecco l'essere umano ha quelle risorse che possono essere spese sempre per il vivere momenti e il benessere psicologico in relazione al proprio ruolo familiare e lavorativo anche bene ringraziamo nuovamente la nostra professoressa Anna Contardi e invito le giuriamo per l'ultima volta raggiungerci qui sul palco il nostro magnifico rettore per procedere con il conferimento di questo premio molto speciale siamo la prima edizione a questo punto quindi cominciamo con la premiazione con Desiree Maria Politi autrice della tesi ruolo di mindfulness accettazione e autocompassione per il benessere psicologico dei pazienti con sindrome del colon irritabile grazie la foto giustamente perché il dubbio c'era effettivamente passiamo a Nicole Bungaro autrice della tesi la crescita post-traumatica nelle donne con cancro al seno e l'importanza di un approccio incentrato sulla persona una revisione sistematica di studi longitudinali grazie la vincitrice di questo premio molto speciale Francesca Russo autrice della tesi l'impatto di autocompassione regolazione emotiva e paura dell'ipoglicemia su eutimia e depressione in pazienti con diabete mellito di tipo 1 uno studio pilota grazie grazie invito tutti a questo punto a riprendere posto in platea grazie ancora a tutti e solamente la dottoressa Francesca Russo aspetta qui con me al centro per appunto condividere quello che è stato insomma questa esperienza la volevo ringraziare anche per avermi messo in difficoltà per il nome della tesi perché dei virtuosismi particolari ok allora lasciate la parola grazie ancora ancora complimenti grazie allora buongiorno a tutti e a tutte io sono emozionatissima perché fino a due anni fa ero seduta lì dove siete seduti voi e sono felicissima di essere qui oggi anche molto grata perché che questo premio mi lega al professor Iani sia dal punto di vista personale che professionale e colgo l'occasione per ringraziare proprio chi ha valutato la mia tesi come vincitrice di questo premio che per me è preziosissimo allora vi porto un po' con me nello spiegarvi come è nata l'idea di questa tesi in realtà nasce un bel po' di anni fa perché io da sempre sono affascinata dal mondo della psicologia della salute della psicosomatica e di questa connessione indissolubile che c'è fra mente e corpo e quindi quando è arrivato il momento di scegliere che settore fare la tesi magistrale io non ho avuto dubbi mi sono recata dal professor Iani e abbiamo un po' avviato siamo veramente partiti da zero per creare questa ricerca e con lui avevo già collaborato in precedenza in triennale a Lidi che è un importantissimo ospedale dermatologico a Roma e insomma già sapevamo vicendevolmente che ci affascinavano gli stessi temi e io il professor Iani che per me insomma poi è diventato Luca nell'ultimo periodo ci siamo trovati subito dal punto di vista professionale perché gli interessi erano gli stessi no? e anche un po' la precisione che diventava in alcuni casi quasi ossessiva no? e mi piace dire anche un briciolo di follia che forse è un'altra sfaccettatura un'altra faccia della curiosità vi parlo di follia perché io a pochissimi mesi dalla stesura della tesi magistrale mi sono recata di nuovo dal professore e gli ho mostrato la mia intenzione il mio desiderio di andare all'estero quindi di andare in Spagna di aderire al progetto Erasmus Plus ma era veramente una follia perché mancava poco tempo alla tesi magistrale e il professor Iani che da sempre ha accolto un po' la mia passione in questo mondo mi ha appoggiato quindi da lì abbiamo avviato una meravigliosa collaborazione che dura tuttora con una professoressa spagnola e si è avviato uno studio multicentrico quindi la tesi vincitrice insomma è uno studio che coinvolge più centri clinici anche in Spagna a Roma coinvolge il Policlinico Gemelli e io ho personalmente raccolto i dati lì al reparto di diabetologia è stata un'esperienza molto molto bella complessa ma bellissima perché sono entrata in risonanza emotiva con queste persone e vi dico anche con piacere che pubblicheremo una ricerca scientifica sui dati che appunto abbiamo raccolto grazie a tanti collaboratori alcuni sono anche qui oggi quindi li ringrazio io oggi in conclusione volevo un po' trasmettere anche a voi lo sguardo che ha trasmesso a me e ha insegnato a me Luca tanto tempo fa e che tutt'oggi io adotto quando ho a che fare con le persone ho a che fare all'interno di contesti ospedalieri Luca mi ha insegnato che le persone che ricevono la diagnosi di malattia cronica prima di essere malati sono persone e in quanto tali hanno tutte delle caratteristiche di personalità hanno delle punti di forza tutti gli effetti delle risorse personali e psicologiche che noi dobbiamo considerare dobbiamo far prendere consapevolezza alla persona per potergli garantire una migliore esperienza di malattia e infatti la domanda che sempre tenevamo a mente lavorando fianco a fianco con Luca era proprio questa cioè cosa posso fare io clinico in questo caso io psicologa nell'aiutare te persona a convivere meglio con la tua malattia cronica e la mia tesi parla esattamente di questo cioè la considerazione di questi fattori protettivi nel convivere con una malattia cronica come è quella del diabete di tipo 1 e vi rubo gli ultimi minuti per leggere dei ringraziamenti molto velocemente io inizio con il ringraziare in realtà i miei pazienti perché mi hanno ricordato che i nostri corpi seppur a volte fragili continuano ad essere vibranti quindi questa ricerca è per voi grazie ai miei genitori che mi hanno donato le radici e le ali e grazie al professor Iani il mio punto di riferimento la persona che ha creduto in me più di me 5 anni fa e ha continuato a farlo fino all'ultimo minuto prima della tragica scomparsa perché pensate che Luca è venuto a mancare a tre giorni dal mio orale di dottorato mi manca in ogni momento per la sua immensa conoscenza e professionalità per il suo garbo per la sua ironia per la sensazione di avere sempre e comunque una mano gentile che mi aiutava nello spiccare il volo questo premio è e sarà sempre anche merito suo nel mio piccolo sto cercando di portare avanti con il dottorato il grande lavoro fatto da lui in precedenza in conclusione quando ho scoperto che avevo vinto ho pensato al discorso da fare e mi è venuta in mente la dedica che avevo scritto sulla mia tesi io all'epoca non potevo sapere che sarebbe accaduta questa bruttissima cosa insomma però nel riprenderla l'ho riletta e ho pensato a Luca quindi al professor Iani e ve la leggo per farvi capire anche proprio quanto mi ha trasmesso lui negli anni io scrivevo a tutti coloro che combattono silenziosamente una battaglia quotidiana ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente sii gentile sempre grazie 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 a dottoressa Russo anche per le parole toccanti Francesca per le parole toccanti grazie grazie come dicevamo ci avviamo velocemente verso la fine di questa cerimonia diamo parola a questo punto al dottor Lorenzo Angelucci per rivolgere il suo personale saluto a nome di tutti i laureati dottor Angelucci quindi benvenuto a te la parola buongiorno a tutti ringrazio il magnifico rettore l'ospite d'onore il prorettore vicariato tutto il corpo docente i laureati le nostre famiglie e sono molto emozionato perché qui io mi sento a casa e sono sicuro che espormi sarà un'altra occasione per conoscermi apprendere ed educare il mio spirito educare per me è il termine più potente che può descrivere questa mia esperienza viene dal latino educere tirare fuori e infatti questo percorso per me non è stato solamente un viaggio accademico ma una vera e propria avventura di crescita personale i corsi di mindfulness autoimprenditorialità arte e psicologia mi hanno portato a due mesi dalla laurea avere due aziende che ho creato nell'ambito della realtà virtuale realtà mista neurofeedback biofeedback social media intelligenza artificiale tutta roba molto divertente e a diventare coach ma anche ad avere il piacere il giorno prima della discussione di tesi di dipingere un quadro con il quale ho deciso di discutere la tesi al posto delle slide l'università europea mi ha aiutato a ascoltare il mio corpo come sto facendo adesso che sento le mani che tremano un po' come una macchina sotto sforzo come vi dicevo prima quindi la meraviglia più grande che mi ha dato l'università europea è stata condurmi fuori da me e oggi proverò a raccontarvi cosa intendo di me io non so nulla eppure per me sono quasi tutto all'inizio quando ho visto la luce per la prima volta c'ero solo io il mio corpo che mi mandava messaggi confusi e incomprensibili ma forti e premurosi poi ho scoperto il piacere il calore il freddo la pipì le lacrime la fame ma con il tempo tutto questo ha lasciato un po' di spazio a tutto il resto e io non ero pronto diamine chi lo sarebbe vivi tutta la vita che poi ho scoperto essere di appena nove mesi immerso in acqua tiepida con quello che per me era l'universo che mi nutriva mi faceva sentire parte di qualcosa di più grande in cui io era al centro di tutto e poi ad un tratto fastidio costrizione non c'è abbastanza spazio non respiro pensavo di morire chissà cosa ci sarà dopo la morte pensavo apri gli occhi e all'improvviso la luce e come la spiego la luce io a chi è un feto o addirittura un embrione impossibile era bellissima la luce ma anche forte e poi i rumori anche questi molto più forti del solito movimenti veloci netti tutto molto strano e a quanto pare ero nato ma più il tempo mi cambiava esteriormente e quindi più in teoria aumentava lo spazio dentro di me e più tutto il resto toglieva spazio a me con l'arroganza strisciante di chi in una lunga fila ti supera facendo finta che non esisti non ti ascolta e così di me ho cominciato a perdere le tracce non mi fraintendete ero sempre io ma non ero simile a me ero diluito smarrito e quando uno si perde di solito ha paura se fosse successo al supermercato mamma mi avrebbe detto di andare alle casse di dire che mi ero perso e io ci ho provato ma dentro di me non trovavo nessun cassiere della mia anima o delle mie emozioni nessuno nessuno che mi venisse a ricercare se solo l'avessi potuta vedere la paura se l'avessi potuta tastare sentirne la consistenza mangiare chissà che sapore ha la paura mi portavo dentro la confusione del parto un'orchestra muta che suonava per me sordo e curioso alla fine però qualcosa traspariva sfocato in alcune situazioni come quando giocavo a pallone quando venivo sgridato quando baciavo quando venivo osservato o offeso affioravano pezzi del fondale da un'acqua polverosa ma alla fine io conoscevo meglio gli altri erano la mia quotidianità erano loro che mi chiamavano per nome quindi evidentemente mi conoscevano mentre quel fondale di un buio che friggeva io non me lo riuscivo a spiegare e quindi semplicemente per me non esisteva e quando premeva nella pancia nella voce nella gola come il coltello di un esperto macellaio io combattevo come un supereroe perfetto che sconfigge un mutante estraneo o una mano veloce che schiaccia una zanzara fastidiosa in una camera da letto dove si vuole solamente dormire così ho passato il mio presente fino a quando è diventato remoto e trapassato anni da chimico scienziato a ricercare negli altri me stesso e vivere attraverso gli altri lo stesso ho fatto le medie il liceo classico come mi era stato consigliato e invece di vivere sono finito frantumato si studiava perché c'erano delle forme ben precise da ricoprire e con le lame affilate del giudizio chiunque mi tagliava come si fa con i diamanti per renderli indossabili come si fa con gli arberi per ucciderli e trasformarli in scrivania io ero bravo se e tanto quanto combaciavo con lo standard il capello alle sharawi le sigarette alla breadfit i promessi sposi a memoria come in manzoni capite bene che per me era un mix strano abbastanza incoerente con il quale non potevo competere un melting pot molto diverso da quello che avevo dentro di cui però non sapevo nulla e credetemi per un po' io ce la facevo a combaciare con lo standard al quale mi aggrappavo con disperata tenacia per poi precipitare e poi e poi mi frantumavo in sassi piccoli e sporchi scarti di miniera che sono rodolati fino alla triennale in via dei marsi 78 lì la stessa cosa ma con molti meno tagli perché ero solamente uno tra i miei fratelli della ghiaia e quindi era più difficile essere precisi osservavo con ammirazione quei sassi tagliati proprio come dicevano i prof ai libri quelli che fumavano senza sembra buffi come se respirassero attraverso le sigarette o le persone che riuscivano sempre a dire la cosa giusta e che si incastravano perfettamente nelle strade reticolate diventando liscio stabile e dura duro asfalto io ormai ero polvere venivo trasportato dal vento ed è così che sono arrivato nelle aiuole verdi di quest'università polvere portata dal vento ero rassegnato nessuno si accorge della polvere fino a quando non diventa un problema che va negli occhi che è sporca ed io ero deciso che malgrado la mia natura non volevo essere un problema quando mi sono poggiato sulle sedie della mia prima lezione senti che però qui c'era qualcosa di diverso e qui non c'erano le lame ed invece di smussarmi giorno dopo giorno i professori e l'iborio aggiungevano terra fresca e profumata argilla liscia immodellabile ascoltavano le mie domande e si fermavano a parlare con me dopo la lezione e io esistevo sentivo il buio illuminarsi sentivo che volevo conoscere che potevo conoscere gli esami andarono benissimo ma perché io non ero più polvere ero io al centro di me stesso come un tempo la luce ora mi piaceva e la utilizzavo per vedermi dentro senza giudizio e con l'esempio che mi era stato mostrato crescevo entusiasta proprio come indica l'etimologia di questa parola en dentro teos dio usia essenza vivevo con l'essenza di dio dentro i miei sorrisi e le mie azioni l'università è stato il mio secondo centro di ostetricia dove sono nato simile a me questa volta studiavo perché provavo piacere nel farlo come giocare a pallone i testi sapienti non erano più taglienti ma benzina per la mia fantasia mi aiutavano a risolvere i problemi anzi a volare portato dal vento sopra i problemi ed a vederli da prospettive diverse ho lavorato e studiato letteralmente con sacrificio rendendo sacro il mio tempo e trasformandolo in valore al servizio delle mie sensazioni e degli altri essere polvere non era poi così male ero velocissimo dinamico eclettico e soprattutto libero concludo rapidamente con una citazione di una canzone che mi piace tanto di Mannarino e adesso vivi perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto grazie bravo visto che siete così generosi se volete rendere ancora più memorabile questo momento e mi volete aiutare lo fate un appaso a mia mamma che sta laggiù e a mio papà grazie 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 dottor Angelucci grazie ci stavano tantissime tantissimi concetti che risuonavano anche con con il discorso del rettore tantissime assonanze grazie e ci avviamo quindi alla conclusione di questo di questa cerimonia invitando qui il dottor Lumia con la presentazione di una lodevole iniziativa ciao Antonio non vi preoccupate sarò breve abbiamo fame il discorso è stato lunghi io vi dirò cose diciamo simpatiche e riprendo un po' anche il discorso della nostra gentile ospite come sapete voi nel momento in cui siete stati proclamati dottori siete stati proclamati anche alumni quindi siete diventati alumni avete iniziato a far parte di questa community che vuole rappresentare un punto di raccordo fra l'università e i suoi laureati quindi tutti noi perché anche io sono un alumno e attraverso delle delle esperienze in particolar modo delle attività che possano mettere in contatto i laureati junior come voi con i laureati senior attraverso appunto l'importante networking che ci aiuta appunto a creare rete e a fare squadra fra di noi come sapete molti di voi già hanno partecipato da tanti dei nostri eventi come potete appunto vedere nelle slide che mi accompagnano ma questa sera si terrà presso il grande hotel Gianicolo la networking dinner siamo veramente tanti siamo 120 alumni quindi siamo veramente tanti 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 ma più siamo meglio è quindi c'è tempo fino alle 3 per iscriversi quindi se volete continuare a iscrivervi sui nostri canali social c'è appunto il link per l'iscrizione che verrà chiuso alle 3 per motivi logistici perché sennò poi diventa difficile anche fare il networking detto questo auguri a tutti auguri ai nostri laureati alle famiglie e ricordatevi sempre che l'UER è casa vostra grazie grazie dottor Lumia grazie 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 a questo punto possiamo dichiarare finita la cerimonia di conferimento dei diplomi di laurea magistrale per il ciclo economia psicologia e giurisprudenza ultimo piccolo messaggio vi invito a riconsegnare le toghe alla sinistra dell'aula io vi assicuro che devono essere riconsegnate perché non c'è poi futuro per quelle toghe quindi dovete ridarle non ci fate nulla ve lo assicuro e quindi possiamo andare a mangiare ciao a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti